Musica Vediamo insieme quali sono i titoli dei quotidiani web regionali di oggi e partiamo da Olbia Nova. Riforma degli enti locali. Il presidente Ganau a Porto Torres spinge per la sua sassari, ma sulla gallura neanche una parola. Il presidente Ganau è intervenuto ieri pomeriggio al convegno organizzato dal coordinamento dei sindaci a Porto Torres dal titolo Area Metropolitana Nord Sardegna. Perché no? Dal suo ufficio stampa arriva la sintesi delle dichiarazioni, dalla quale si evince un esclusivo interessamento verso il riconoscimento del titolo Area Vasta per la sua sassari. Proseguiamo con sassari notizie. Si parla di sport. Pino Ferrazzoli non è più l'allenatore della Torres. Lo si evince da un comunicato stampa che è stato diffuso ieri in cui si dice La SEF Torres 1903 comunica di aver risolto il rapporto con l'allenatore Pino Ferrazzoli per la stagione 2015-2016. La società ringrazia il tecnico per il grande impegno profuso e la professionalità dimostrata. Proseguiamo con la Nuova Sardegna. Tragedia a Birori. Anziano muore soffocato nell'incegno della propria abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 7.30 del mattino. Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco. La vittima si chiamava Antonio Maria Piga e aveva 85 anni. Le fiamme sono divampate in un incendio di via Sant'Andrea. A causarle sarebbe stata una sigaretta accesa dall'uomo conosciuto come forte fumatore. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco giunti sul posto da Macomere, la sigaretta sarebbe caduta su un materasso che ha subito preso fuoco. E proseguiamo con Vistanet.it. Tertenia, la rivincita della birra Lara contro il colosso Heineken, potrà continuare ad utilizzare il nome Moretta. Vediamolo meglio nel dettaglio. In credulità e sgomento la reazione di Francesca, Lara e Gianni Piroddi, che sono i proprietari del birrificio artigianale Lara di Tertenia, nel momento in cui un anno fa hanno ricevuto una lettera di difida da parte del colosso di Heineken. Lo studio legale della multinazionale contestava al microbirrificio Lara l'uso del nome Moretta per la commercializzazione di una loro birra, nome troppo vicino al brand Birra Moretti di proprietà Heineken. Il Latv.it, incidente stradale sulla 131 al chilometro 63 in direzione Oristano. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri sera nello scontro. Tra due Ford Focus sono rimaste ferite due persone, di cui uno in condizioni gravi. È stato trasferito all'ospedale Sangavino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. È il personale del 118, la coda ha bloccato il traffico per diverse ore e la strada è stata riaperta al traffico intorno alle 20.00. Cagliaripad.it, regione, energia, giunta in rivolta, il governo spegne un pezzo di industria sarda. Il governo italiano non ha fatto nulla sulle servitù militari, nulla sulla chimica verde, nulla sulla metanizzazione, nulla sulla fiscalità di vantaggio, nulla sulla lingua, eccetera, eccetera. Eppure ora, con una sua controfigura che è eterna, spegne un pezzo di industria sarda. Queste sono le parole di accusa dell'assessore regionale di lavori pubblici e presidente del Partito dei Sardi Paolo Maninchedda. Concludiamo con l'Unione Sarda.it. A Cagliari una rissa tra ladri e vigilante salì per pan. Spunta anche un coltello e due arresti. Un furto in un supermercato di Cagliari che si è trasformato in una rapina con rissa tra i due presunti ladri, che sarebbero padre e figlio, e le guardie giurate. E' accaduto in serata l'Iperpan in Viale La Playa. Sono intervenuti gli agenti della squadra volante che hanno fermato le due persone accusate di rapina impropria. Queste erano le notizie dei quotidiani web regionali. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.